Da Roma, Mario Figone. Viva, viva abbiamo il nuovo governo. Dopo gli urrà di Pramatica è il caso di fare qualche riflessione fondata. Intanto, più che un grosso governo di grossa coalizione, sembra un grosso governo di grossa DC. La DC riesce sempre a rinascere dalle sue ceneri grazie alla vastissima diffusione dei suoi ex-membri. Quando parliamo di ex-membri dobbiamo parlare anche dell'attuale primo ministro e di moltissimi dei suoi compagni di strada che poi si sono disseminati in varie formazioni politiche italiane. La DC la troviamo nel PDL, come la troviamo al centro, come la troviamo tra i Montiani, negli ex-UDC la troviamo nella sinistra moderata e perfino anche nella sinistra movimentista e nei movimenti che attualmente sono antagonisti. Perché la duttilità dei cattolici, il loro desiderio di impegnarsi nel sociale ma anche di rappresentare se stessi è talmente vivace che non può essere cancellato in un attimo. Ricordo dei miei articoli degli anni 90 quando sotto l'onda di mani pulite io dicevo attenzione, attenzione perché può succedere un po' quello che è successo nella guerra del Golfo, ovvero che un esercito, quello iracheno, si dissolva in un attimo per poi ripresentarsi da un'altra parte con un'altra bandiera o degli altri costumi di guerra e divise. La DC ha fatto così, a Roma ad esempio era maggioritaria dentro la RAI e improvvisamente è sparita nel nulla, però poi sostanzialmente le poltrone erano tutte occupate da ex amici di amici. Quello che è successo anche ieri senza nulla voler pregiudicare all'abilità di Letta Junior, però indubbiamente ci sono delle tracce ideologiche molto molto nette, freschissime. Lo stesso Letta Junior è cresciuto a Pisa, in questo caso una radio che parte da Livorno deve riconoscere il primato in questa fase dottrinale, politica e universitaria di Pisa, perché di Pisa in questo governo non c'è soltanto a dispetto di cardinali che sicuramente si addolorirà sul suo vernacoliere. Dobbiamo riconoscere che di Pisa c'è molto, c'è la carrozza con la scuola Sant'Anna, molti ex, tra cui Letta stesso, persone che hanno insegnato per brevi periodi o che hanno appreso all'università di Pisa o hanno vissuto nella città di Pisa. Questo per metterla ironicamente e affettuosamente tra toscani. Per quello che riguarda il governo, al dispetto di quello che si è detto, non tutte le figure sono assolutamente di primo piano interessantissime. Ad esempio ci sarebbe molto da discutere sul profilo e sul curriculum della Lorenzin, che accede a un ministero chiave come quello della sanità, che ben sapete produce deficit spaventosi e sul quale nessuno di nessun partito ha mai messo le mani, perché ridurre i costi della sanità e gli sprechi della sanità vuol dire fare una cattiva fine politica e nessuno vuol rimanere con questo cerino spento in mano. Alla sanità arriva la Lorenzin, che direi tutto sommato, a parte qualche battibecco televisivo in difesa della destra, ha soltanto il merito di essere stata una delle segretarie di buon aiuti, quindi non certo una premio Nobel. Con questa nota sconfortata, tutto sommato, dobbiamo anche noi augurare buon lavoro a questo governo, anche perché l'Italia ha bisogno di azioni governative e speriamo che da questo batti e ribatti, da questo tavolo molto allargato, nasca qualcosa di positivo per sostenere il Paese nella ripresa. Grazie per l'ascolto e da Roma vi restituisco la linea a Marefigone.